Adesso facciamo vedere come rilevare una linea. Allora, per esempio qua abbiamo una linea curva. Usiamo un righello oppure una squadra e man mano ci giriamo, ruotiamo, vedete? E così copiamo. Un'altra cosa che si può fare è a mano libera fare una linea tratteggiata. E dopo collegarla. Ci sono due modi in cui io mi trovo più facilmente a rilevare il caffamodello. Allora, rileviamo tutto attorno. Allora, abbiamo rilevato il fianco. Adesso qua però ci troviamo le pieghe, vedi? Abbiamo due pieghe. E anche qui dobbiamo vedere qual è la linea della nostra taglia. Rilevare quella. In caso tu hai la linea non tratteggiata ma in grassetto nera. Quindi mettiamo un segno qua e un segno qua. E questa è la prima piega. Poi un segno qui e un segno qui e questa è la seconda piega. E ti fa vedere anche in che direzione va la piega. Guardandoci adesso non è una piega, è un faldone oppure si chiama una piega baciata. Dopo ti farò vedere come si fa. Quindi una va in qua, parte una va in qua. Quindi adesso andiamo a rilevare queste linee qua. Ok, io ho scritto centro faldone per facilitarci il lavoro. Qua non c'è scritto. Quindi questo andrà su questo e questo andrà su questo. Ok, questo è il nostro faldone, l'avevamo rilevato. Adesso rileviamo l'altro pezzo, il dietro. Quindi abbiamo scritto tutto quello che ci serve. In questo caso abbiamo scritto centro davanti, ripiegatura. Quando abbiamo rilevato tutte le intacche, tutte le legnette, tutto, possiamo togliere il cartamodello. Ecco qua. Brava. Stiamo rilevando il dietro e questo è il fianco. Allora adesso stiamo cercando di rilevare la pence. O la ripresa, come la volete chiamare. La tua è questa qua, taglia più grande e quella più in là. Sì. Quindi Ti conviene mettere un punto qui, anche, per sapere esatto. Allora abbiamo rilevato il nostro modello, spero che riusciate a vedere. Questo è davanti, questo è il dietro. Adesso, cosa facciamo adesso? Andiamo a tagliare? No. Una volta rilevato, anzi sarebbe anche meglio, sarebbe meglio prima. Confrontiamo le nostre misure? Perché se no, dopo non si torna più indietro. Quindi prima di rilevare, avremo già verificato le nostre misure. E quindi adesso andiamo a misurare intanto in vita, perché è quello che in questo caso ci interessa. Allora, questa è la ripresa, quindi questa non la contiamo, perché questa sarà dopo cucita. Ok? Quindi andiamo col metro a misurare da qui a qui fino alla pens, mi metto un dito, riparto qui, ed ecco qua ho 20 e mezzo. Ok, adesso prendo il davanti e faccio la stessa cosa. Vedi qua abbiamo le pieghe, quindi le pieghe non le contiamo, perché quelle vanno cucite. Quindi vado avanti, mi fermo qua, alla prima piega, e riparto dove la piega finisce. Misuro. Ho 44 e mezzo. Facendo il conto, è uscito fuori che mancano 6 centimetri in totale per avere la vestibilità giusta. Quindi 6 centimetri in totale vuol dire 3 a metà, siccome noi lavoriamo in quarti, 1 e mezzo nel davanti, 1 e mezzo nel dietro. La seconda verifica che facciamo è quella del fianco. Il fianco si trova circa a 18-19 centimetri dalla vita, è circa un decimo altezza di persona più 1. Quindi andiamo a misurare a 18-19 centimetri quanto abbiamo nei fianchi, o la stessa maniera che abbiamo fatto con la vita, e confrontiamo con i nostri fianchi. Occhio qua, ho il cartavodello ribaltato sotto sopra, quindi questa è vita. Occhio qui, perché non possiamo misurare fin qui, perché noi dobbiamo fare fino al centro davanti. Questo pezzo qua è solo il pezzo che va dopo a sormontarsi, quindi non conta. Io vado a misurare, in questo caso, il fianco fino al centro davanti. Quindi, ecco, mi raccomando quando avete queste cose qua. Di solito le agone sono in terra davanti e dietro, quindi non avete questo. Però nel caso oveste, ricordatevi di considerare questa cosa. Allora, qui noi abbiamo calcolato che abbiamo 10-12 centimetri di vestibilità, quindi non andiamo ad aggiungere. Qui la vestibilità dipende dalla gonna che avete. Se avete una gonna a tubino non serve neanche la vestibilità, va giù affusolata. In questo caso che è un po', diciamo, un po' svasata, perché comunque la portafoglia è un po' svasata, e anche con le gonne svasate dai 10 ai 15-20 centimetri, a seconda del modello, qua 10-12 centimetri va bene. Possiamo, di più non ci serve, però possiamo sempre stringere se non ci piace. Allora, abbiamo detto che ci mancano 6 centimetri totali in vita, quindi 1,5 per un quarto. Eccoci qua, l'ho aggiunto in vita, e adesso vado a collegarmi, perché qua bene o male diventerà abbastanza dritta, vedi? Sarà abbastanza dritta e dopo, eventualmente, se serve, possiamo proprio creare la piega più grande, se la stoffa è in più. E' lo stesso qua. Con le gonne, bene o male, si può, dopo, vendendolo addosso, si può sistemare, vedremo anche quello. Allora, a questo punto, aggiungiamo il margine di cucitura. Dove ci serve il margine? Qui non ci serve, perché è tagliato intero, quindi due metà. Ci serve nel fianco, ci serve qua per il cinturino, e ci serve giù in fondo per l'orlo. Allora, qui in vita diamo un centimetro, perché qui non ci cambia. Qui diamo un e mezzo nel fianco, ma dove esserci stretta in vita abbiamo quel mezzo, perché di solito la cucitura basta da uno, abbiamo quel mezzo centimetro da recuperare, quindi mezzo per quattro diventa due centimetri in più di vestibilità. Quindi sul fianco mettiamo sempre un e mezzo. Gli orli della gonna, dritti così, sono quattro centimetri, ok? Quando faremo la gonna svasata, vedremo l'orlo della gonna svasata. Adesso sulla carta vado a mettere il margine tutto attorno e dopo taglio, perché si può anche tagliare così a vivo e aggiungere margine col gesso sulla stoffa. Però io non lo pratico, prima perché è meno preciso, poi perché una volta aggiungi sulla carta, tutte quelle volte che la tagli ce l'hai già a margine. Ok, quindi, guarda qua, ho messo metro a un centimetro, vado a disegnare queste lignette tutto attorno, dopo che vado a collegare, qui ho un centimetro tutto attorno. Dopo vi farò vedere le pieghe, le pants, come si aggiunge sulla pants. Qui non abbiamo niente perché è la piega della stoffa, si piega, non va cucito niente. E qui abbiamo, abbiamo detto scusami, uno e mezzo. Ok, adesso tutto attorno e dopo colleghiamo. Allora, abbiamo rilevato e abbiamo aggiunto le cuciture. Adesso ci interessa le intacche. Cosa vuol dire? Io qua ci dovrò mettere, l'intacche sono i segni che dopo ci servono. Per esempio, ci serve questo segno qua e questo qua della ripresa della pants. Se no, come facciamo a sapere dove cucirlo? Ci serve questo segnetto qua dove finisce la ripresa. Nel davanti ci servono questi tre segni dei faldoni, quindi centro e due latti. Ci serve anche nel davanti, in questo caso, l'intacca del centro davanti. Dopo vedrete perché. E sarebbe anche bello da metterci un'intacca dopo, quando abbiamo tagliato i pezzi, quando cucciamo i due fianchi. Ok, adesso abbiamo i nostri pezzi rilevati. Dopo ci disegniamo anche il centurino. E adesso andiamo a piazzare sulla stoffa.